Ciao a tutti, ben ritrovati, proseguiamo a risolvere problemi tratti dal testo degli autori Mazzoldi Nigrovoci a cura, terza edizione, vedete il libro lo state vedendo davanti, ma l'ho già mostrato anche nei video precedenti a cura dei docenti universitari della Sapienza, professor Michelotti e professor Azzeni leggiamo, adesso il problema che vedete in grafica è il problema 14.16 di questo testo una mole di gas ideale monoatomico compie un ciclo reversibile formato da una trasformazione isoterma B una trasformazione isobara BC e una trasformazione adiabatica CA nello stato A, T con A è 500 gradi Kelvin, V con A è 10 alla meno 3 metri al cubo nello stato C, V con C è 2 per 10 alla meno 3 metri cubi quindi calcolare il lavoro svolto dal gas durante ciascuna trasformazione e il rendimento del ciclo scriviamoci i dati, prima però andiamo a rappresentare il problema ovviamente andiamo a rappresentare tutto nel piano PV come abbiamo fatto anche nei precedenti problemi, dunque devo dire la verità non ho davanti il testo mi pare che nel testo sia comunque rappresentato questo ma comunque siamo in grado di farlo anche noi ci parlano di una trasformazione isoterma B eccola qui ovviamente da verso B ci parlano di una vediamo se riesco a farla dritta mi è scappata la mano ci parlano di una isobara BC da B verso C e ovviamente abbiamo una diabatica CA ecco qua, scriviamoci a fianco i dati del problema problemi interessanti comunque, dunque cominciamo ovviamente trasformazione isoterma B subito scriverei che TA è senz'altro uguale a TB dato numero 1, dato numero 2 ci parlano di trasformazione isobara BC quindi PB è senz'altro uguale a PC ci parlano, ci dicono che TA dato 3 è 500 K quindi TA uguale a TB uguale a 500 gradi Kelvin ci dicono poi dato numero dunque dato numero 4 ci dicono, ci parlano di CA trasformazione adiabatica quindi aggiungerei che il calore di CA il calore scambiato la trasformazione di CA è nullo adiabatica dato numero 5 ci parlano di volumi ci dicono che il volume VA è 10 alla meno 3 metri cubi e il numero 6 ci dicono che il volume allo sto C è 2 per 10 alla meno 3 metri cubi quindi avete capito che VC è uguale a 2 VA aggiungerei poi il dato numero 7 secondo cui secondo cui il calore specifico molale a volume costante evidentemente è 3 mezzi R perché qui ci parlano in questa volta di gas di una mole dato 7 CV uguale a 3 mezzi R è una mole di gas ideale monoatomico quindi CV è 3 mezzi R e CP sarebbe 5 mezzi R 8N uguale a 1 mole lo metterei pure e poi infine il dato numero 9 CP su CV è gamma quindi gamma evidentemente lo scriverei è pari a 5 terzi abbiamo scritto tutto possiamo come al solito tirare una linea e partire con la risoluzione di questo che sembrerebbe un non difficilissimo problema io vi ricordo che questi problemi sono risolti nel mazzoldi invito a comprarlo il testo questo testo qua questa edizione è fatta benissimo e guardate i miei video perché io vi ricommendo tutti i problemi e li facciamo molto più dettagliati rispetto al ovviamente breve scarno ragionamento risolutivo nella risoluzione scarna e breve ovviamente è convincito che sia di questo testo dunque cominciamo con la prima trasformazione quella che va evidentemente come al solito andiamo in ordine da A verso B che ci dicono essere una trasformazione isoterma che è tutto quello che comporta evidentemente vale anche però l'equazione di stato dei gas perfetti perché ci parlano di una molle di gas ideale di un atomico quindi vi ricordo che vale anche PV uguale K uguale costante in particolare in particolare in generale uguale a N RT N però è 1 e quindi posso calcolarmi per esempio la pressione allo stato A dividendo per VA da una parte all'altra P con A sarebbe N RTA tutto fratto VA se ci riferiamo evidentemente allo stato A chiaramente con N è una mole R ve lo ricordo è 8,314 Joule fratto moli per gradi Kelvin T con A ci viene assegnato ed è evidentemente T con A è 500 gradi Kelvin quindi è un dato che ci viene fornito dal testo fratto VA che è anch'esso un dato fornito dal testo è un 10 alla meno 3 metri cubi notiamo come Kelvin e Kelvin qui se ne vadano moli e moli qui se ne vanno abbiamo un evidentemente otteniamo come come risultato se fate questo conto circa un 4 milioni 157 mila che cosa dai dati dovuti a visura Joule fratto metri cubi un attimo però adesso perché io vi ricordo che in generale facciamo il solito solita parentesi no io vi ricordo che Joule è Newton per metro allora vuol dire che 4 milioni 157 mila Joule su metro cubo saranno evidentemente 4 milioni 157 mila Newton su metro quadro no io vi ricordo altresì che un Newton è un Pascal su metro quadro e quindi un Pascal sarà un Newton per metro quadro pertanto allora allora cosa vuol dire vuol dire che PA la pressione allo stato A che è 4 milioni 157 mila Joule su metro cubo che vuol dire poi 4 milioni 157 mila Newton su metro quadro possiamo scrivere come 4,157 se volete per 10 alla 6 Newton su metro quadro o se volete anche 41 0,57 per 10 alla 5 Newton su metro quadro vi ricordo anche che un bar che non è il bar dove si prende il caffè un bar è 10 alla 5 Pascal e pertanto possiamo allora dire che in definitiva la pressione allo stato A la potremmo scrivere come semplicemente 41,57 per 10 alla 5 no? ovviamente effettivamente Newton su metro quadro evidentemente è il chiaramente la potremmo scrivere come piccona la potremmo scrivere come 41 quindi un pascale evidentemente sarà un Newton un Newton per metro quadro no? e quindi evidentemente piccona la possiamo scrivere come 41,57 bar anche evidentemente così fatta questa precisazione doverosa sempre la facciamo parliamo adesso della trasformazione visto che abbiamo parlato della trasformazione AB la trasformazione BC è evidentemente un'isobara per la quale Pb uguale Pb passiamo alla trasformazione l'ultima quella che va evidentemente da C verso A che ci dicono essere una adiabatica sappiamo che V con C è uguale a 2V con A conoscendo V con A e inoltre evidentemente sendo un'adiabatica vale la sua ed equazione una delle tre relazioni di Poisson T con A V con A alla gamma meno 1 stavolta gamma lo conosciamo è uguale a T con C V con C alla gamma meno 1 in questo modo possiamo ricavarci T con C dunque T con C evidentemente dividendo per V con A alla gamma meno 1 da una parte all'altra sarà evidentemente T con A che moltiplica il rapporto V con A alla gamma meno 1 fratto V con C alla gamma meno 1 quindi un V con A su V con C tutto elevato evidentemente gamma meno 1 a questo punto possiamo ricavarlo però T con C mentre qui ho sbagliato possiamo ricavarlo T con C perché conosciamo T con A T con A ce lo danno ce lo forniscono ed è 500 Kelvin come anche T con B quindi T con C sarà evidentemente 500 gradi Kelvin V con A su V con C evidentemente se V C è 2 Va verrebbe che questo verrà Va fratto 2 Va quindi verrebbe direttamente un 1 mezzo perché Va e Va semplificano elevato alla gamma meno 1 dove gamma meno 1 evidentemente è 2 terzi perché gamma chiaramente è 5 terzi 5 terzi meno 1 5 terzi meno 3 terzi e 2 terzi un mezzo da 2 terzi si può calcolare per 500 gradi Kelvin ci viene circa un 315 gradi Kelvin pertanto abbiamo calcolato anche la temperatura allo stato C diciamo che possiamo però per quanto riguarda l'isobara BC che ho voluto trattare adesso potremmo farlo anche prima per la verità oltre a dire che evidentemente abbiamo scritto nei dati che se non l'isobara PB è uguale a PC però vi ricordo anche che in generale PV è uguale a NRT che vuol dire che per PB PB sarà NRT con B fratto V con B e PC sarà NRT con C fratto V con C quindi sostituendo in PB e in PC avremo che PB lo possiamo scrivere come NRTB fratto il volume allo stato B tutto quanto uguale a PC che sarà evidentemente NRTC tutto fratto il volume in C NR e NR se ne vanno vedete che trovo proprio l'equazione tipica dell'isobara l'abbiamo trattata all'inizio di questo lungo corso di termodinamica secondo cui effettivamente TB fratto il volume allo stato B è uguale a T con C fratto il volume allo stato C in questo modo possiamo ricavare senz'altro il volume allo stato B abbiamo VA e VC non abbiamo VB perché chi è il volume allo stato B beh evidentemente basterà scrivere da questo possiamo scrivere che vale anche evidentemente se vale questo vale anche che TB fratto Tc evidentemente sarà pari a VB VB fratto V con C e moltiplicando ambo i membri per VC avremo che VB è evidentemente pari a VC che moltiplica questo rapporto tra T fra TB ma TB è uguale a TA è un isoterma fratto Tc ovvero 2VA per TA su Tc mettendo buttandoci schiaffandoci dentro i valori 2VA lo sappiamo chi è evidentemente VA è 10 alla meno 3 metri cubi abbiamo già detto quindi possiamo direttamente metterlo qui 2 per 10 alla meno 3 metri cubi che ci viene anche fornito dal testo che moltiplica T con A fratto T con C quindi un 500 gradi Kelvin diviso quel 315 gradi Kelvin che abbiamo calcolato prima ci viene circa ci verrà un 3 fatti i conti virgola 17 per 10 alla meno 3 metri cubi e ora possiamo calcolare tutto perché ci chiedono il testo ci parla di calcolare il lavoro svolto del gas il lavoro svolto dal gas durante ciascuna trasformazione quindi i tre lavori e poi il rendimento tiriamo come al solito la linea ora abbiamo tutto perché cominciamo con il lavoro lungo la trasformazione B che è appunto la nostra isoterma che sappiamo essere per definizione nr t con a logaritmo ovviamente t con a e t con b sono gli stessi naturale di vb fratto va l'avremmo visto miliardi di volte questo tipo di questo lo possiamo ancora scrivere come evidentemente allora se fate questo conto vi dico subito che n ovviamente è 1 r 8 e 314 già ho fatto mori Kelvin t con a e 500 gradi Kelvin logaritmo di vb lo conosciamo e t per 3,17 per 10,3 mt cubi v con a lo conosciamo 10,3 mt se ne vanno se fate questo conto vi viene un lavoro ovviamente visto che è un'espansione isoterma dalla figura 4000 è positivo 4796 joule questo è il lavoro lungo la trasformazione a b calcoliamo poi il lavoro lungo la trasformazione bc chi sarà beh lo sappiamo bc è un isobara possiamo dire che il lavoro è p delta v ma p è costante semplicemente ve lo ricordo che v è nr delta t fratto p p e p se ne vanno sappiamo benissimo che il lavoro di un isobara in generale è nr delta t cioè tc meno tb ve lo ricordo evidentemente sappiamo benissimo e questo lo fate ovviamente è un lavoro come vedete la temperatura evidentemente sarà un lavoro negativo ed è un meno 1538 joule è negativo perché chiaramente la temperatura di c la temperatura in c è la temperatura b e come la temperatura a c è evidentemente minore l'abbiamo calcolato prima e quindi sarà evidentemente un lavoro negativo quindi ci sarà una compressione evidentemente isobara e poi infine il lavoro lungo la trasformazione ca adiabatica che sarà evidentemente lo sappiamo non c'è scambio di calore quindi l di ca sarà pari a meno delta u quindi la possiamo scrivere come ua meno ua meno uc ma moltiplicando per meno come anche uc meno u con a cioè anche come ve lo ricordo ncv calore specifico pulare a volume costante t con c meno t con a e evidentemente che qui parliamo di una compressione adiabatica perché parliamo di lavoro negativo se lo fate visto che tc evidentemente è minore di ta l'abbiamo già detto viene un 2300 circa un 23007 joule e anche questo lo abbiamo calcolato il lavoro totale evidentemente che poi ci può servire nell'espressione del rendimento sarà il lavoro lungo a b più il lavoro lungo b c più il lavoro lungo c a per questa somma ottenete 1 957 joule così che possiamo ottenere l'espressione del rendimento che tra le altre cose lo ricordo è il lavoro totale dal ciclo diviso il calore assorbito questa è l'espressione generale non conosciamo però il calore assorbito io vi ricordo che nella espansione isoterma vi ricordo che Q di a b in isoterma non c'è delta u Q di a b è pari a l di a b e quindi Q di a b effettivamente è 4796 positivo quindi se adesso calcoliamo anche Q di b c che evidentemente sarà n calore specifico a pressione costante t con c meno t con b se t con c e meno t con b lo sappiamo questo ci accorgiamo che il calore è ceduto quello negativo quindi evidentemente il calore assorbito è questo che sto incondiciando qui e pertanto Q di a b calore assorbito sarà 4000 sarà evidentemente un il calore assorbito Q di a b evidentemente è appunto il lavoro l di a b quindi il rendimento sarà l totale diviso lo possiamo dire su Q di a b allora se fate in generale 957 j lo dividete per il lavoro di a b perché l di a b e Q di a b sono 4796 j lo faccio anche adesso qua j e già naturalmente se ne vanno dunque in generale se fate 957 lo dividete per 4696 ottenete effettivamente un 0,199 di rendimento che è quello che ci aspettiamo di ottenere nel testo del Mazzotti mi parla di 0,198 in ogni caso abbiamo risolto facilmente anche il problema 14.16 del testo degli autori Mazzotti Nigro Voci ciao a tutti alla prossima un 0,199 un 0,199 un 0,199